Caos viabilità per il senso unico a Via Curtoli dopo la riapertura delle scuole. I timori di commercianti e residenti della zona si sono concretizzati con l'avvio dell'anno scolastico. Negli orari di ingresso e di uscita degli studenti il traffico in zona va in tilt, come mostrano le immagini. I disagi alla viabilità si ripercuotono anche su Via De Nicola, Via Marconi, Via Montedoro e Via Scappi. A nulla sono servite dunque le proteste nel mese di luglio di commercianti e residenti che avevano promosso anche una petizione popolare, gli incontri in comune, in commissione trasparenza, la presenza dell'assessore Cinzia Mirabella e del comandante Salvatore Visone e le innumerevoli richieste di revocare il provvedimento o di valutare soluzioni alternative. L'amministrazione comunale che a luglio parlò di un provvedimento sperimentale non sembra al momento intenzionata a fare passi indietro. Le nostre preoccupazioni erano fondate e la voce del comitato civico di commercianti e residenti. Visto che in zona ci sono ben cinque plessi scolastici, questo dispositivo crea non pochi problemi ai genitori che accompagnano i figli in auto e ai lavoratori che percorrono arterie importantissime che risultano letteralmente intasate. Le nostre istanze non sono un rifiuto all'autonomia dell'amministrazione, ma siamo consapevoli che sarà un'inutile perdita di tempo con relativi disagi e successivi passi indietro. Grazie